Siamo ai Bagnermes a Torrette dove i titolari sabato mattina hanno avuto una spiacevole sorpresa. I ladri erano stati qui. Un fatto che si ripete anche da tempo e infatti loro lanciano un grido d'allarme perché come sentiremo fra poco dal titolare questa cosa crea non poca apprensione e soprattutto negli ultimi tempi la cosa ha avuto una certa recrudescenza. Qui siamo proprio nel deposito dei Bagnermes che custodisce i lettini e i ladri sono entrati probabilmente da una stradina laterale si sono introdotti in questo deposito e li hanno portati via proprio da qui. Allora sabato mattina spiacevole sorpresa siete venuti per aprire la giornata e i ladri vi avevano fatto visita. Purtroppo sì, venerdì notte abbiamo avuto un furto in spiaggia, si sono spariti una sessantina di lettini ed è stata una brutta sorpresa, non ce l'aspettavamo. Ecco diciamo che non è la prima volta, è capitato anche a altri tuoi colleghi che gestiscono spiagge qui vicine dà un po' di insicurezza questa cosa al di là del valore che comunque c'è. Certo, dunque il valore economico è sempre un fatto importante per le attività commerciali come sono le nostre però dall'altra parte c'è anche un problema legato a una sicurezza come giustamente dicevi te non soltanto per noi ma in generale, infatti purtroppo anche dei miei colleghi, dei colleghi bagnini hanno avuto lo stesso problema e poi è un problema che in generale nella nostra località negli ultimi anni ha avuto un po' un escalation, nel senso che questi episodi ultimamente negli ultimi anni sono aumentati non soltanto sulle spiagge ma anche su altri settori come case private o hotel. Ecco sarebbe anche tra virgolette facile poter attuare dei controlli visto che Torrette ha un'unica via d'accesso un'unica via d'uscita quindi avete chiesto anche di poterla monitorizzare questo accesso. Io spero e mi auguro che se questo fosse possibile o l'amministrazione comunale in accordo magari anche in collaborazione con noi operatori o con le forze dell'ordine o con qualcosa sia possibile creare un sistema per almeno cercare di monitorare e dare un'immagine un po' più sicura alla nostra zona ma anche a tante altre zone, insomma cercare di capire se ci sono dei sistemi per raggiungere un obiettivo di sicurezza maggiore.